Io sono entrato al Vaniglia Time, io pensavo che era una cosa finta, cioè a livello proprio, pure iniziato dalla bottiglia, non la pubblico adesso Peppe, la pubblico domani, iniziato dalla bottiglia, ma qua se vedete bene, e ancora deve finire perché il mio amico, colui che ha le mani d'oro, Peppe del Vaniglia Time, fai un saluto Peppe, fai un saluto, a tutti gli amici di Facebook, Cioè raga, guardate che torta, cioè non stiamo scherzando, Vaniglia Time, un nome, una garanzia, Peppe del Vaniglia Time ha saputo creare lo stadio, lo stadio totale, guai giù, e ci manca ancora il campo, sta lui lavorando, si lavora, si lavora, giusto Peppe? Dove ci troviamo, il Vaniglia Time, dove si trova, Peppe? Dillo, è a Via Passanti, Via Passanti, numero? Precisamente nell'aria mercato di Scafati, ragazzi, guardate che torta, poi ve la faccio vedere completa, forza Napoli, sempre, raga non sto scherzando, questa è una torta, No, diciamo, riducendo che va a buttegli, sta cosa, ma stiamo scherzando, è un genio, è un genio, complimenti Peppe